Un gran successo stasera perché sembra sia l'evento più spumeggiante della settimana della moda e credo di capire perché, in realtà c'è questo connubio molto inatteso, inaspettato tra un'icona molto democratica dell'auto italiana nel mondo, una grande star dell'auto italiana nel mondo e il brand Trussardi, il brand di fashion, il brand di lusso dunque, qualcosa come quasi uno simbolo, perché una panda di lusso, una luxury panda cosa significa? Ma in realtà credo che sia questo il genio dell'operazione voluta fortemente da Tommaso Trussardi non solo da me, quello di completare la gamma panda con il tassello mancante La campagna di lancio è abbastanza inedita perché parte da un music video un video musicale, un clip, che è quello di AvaMax abbiamo insieme sviluppato un video musicale bellissimo, un'opera d'arte che integra i capi di abbinamento di Trussardi, la macchina e nonché l'Italia in generale e Milano perché c'è un bellissimo placement di Milano e del Duomo di Milano all'interno di questo video musicale che farà sicuramente il giro del mondo Panda non è mai stata così popolare basta pensare che dal 2003 è leader ogni anno del suo segmento, quello del City Car, in tutta Europa Ciao! Ciao! Ciao!